Ciao ragazzi, nuova puntata speciale Super Reduce Danna Games Awards 2022 è stata trasmessa da Los Angeles in diretta stanotte vi porto subito qualche gioco speciale partiamo subito, vedete già a destra qualcosa che si muove di Star Wars Jedi Survivor un nuovo gioco di Respawn Entertainment presentato da Electronic Arts e previsto rilascio su Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X ed S in uscita del 17 marzo 2023 una delle novità che vi porto in questo video vedremo qualche gioco insieme mi raccomando, voglio sapere poi nei commenti di YouTube qual è stato quello che vi ha colpito di più mi raccomando, aspetto di sapere il vostro giudizio tra Star Wars e gli altri trattori che vi sorprenderò sicuramente vi lascio in coda a questa prima intro mi raccomando, registratevi al canale come dico sempre ma andiamo subito a vedere di cosa si tratta avete visto ragazzi che novità? un nuovo gioco di Crash Bandicoot Crash Team Rumble questa volta dobbiamo unirci agli altri in cooperazione ma vi lascio vedere il trailer che è un'altra volta E allora è stata una sorpresa, Crash Team Rumble da 2023, vedete per Xbox One, Xbox Series X e PS5 Crime Boss, Rocky City, Florida, anni 90 Che gioco è? Starring, occhio i personaggi Altro super gioco, questa volta completamente nuovo, novità assoluta, Crime Boss Si va a vivere a Rockway City, è un nuovo shooter in prima persona che potete giocare sia a The Soul che in multiplayer Ma vediamo subito com'è Da cui potete vedere tanti attori famosi da Hollywood, grandi grafiche, scene di trailer spettacolari E' un nuovo GTA Io aspetterei un titolo nuovo finalmente e ben fatto Speriamo sia addirittura a The Chuck Norris per PS5 Ultimissimo titolo, cosa c'è? Death Standing 2, Kojima ci fa il regalo Il maestro dei videogames, ragazzi Il gioco che stiamo portando sul nostro canale ci sarà la seconda versione Ma guardiamo insieme che cosa ci sta facendo vedere Spettacolo Aspetto un vostro commento Qual è il migliore tra tutti i giochi che vi ho portato? Aspetto i vostri commenti qua sul canale di YouTube E condividete il video, mi raccomando Che sorpresa, che sorpresa Guardate qua la Fragile che scappa con il bimbo in ascensore Dove andrà? E' un maestro Guardate che passo davanti con la grafica che è stato fatto Super E' un maestro E' un maestro Baby Baby Don't worry It's okay No one should have to suffer such loss You know, I meant it when I said I understand how you feel But if you hold on to the sadness It'll weigh him down like an anchor. Come meet my crew, Sam. It's time for you to hit the road and start a new journey. It wasn't the UCA that made the final decision. It was AIPAC, a private corporation. So let love warm till the morning. Ragazzi, spero vi sia piaciuta questa presentazione ridotta del Games Award. Vi aspetto sul canale. Registratevi. Che spettacolo, guardate la piove da dentro, Bibi! Kojima numero uno. Vai con un like! No, 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 no. No, no, no. We all know. We all know. But we all know a game. It's the first game in the Oregon. And we are still the future. We all know the series. We are going back! Grazie.